Vi presento Sites in VR, Virtual Reality App for Android and iOS, dal sito http.vrcodex.com slash 2297 slash Sites, Linetta in Linetta VR, slash. Sono Laura Antichi e vi presento questa esplorazione dei luoghi in Virtual Tour. E sarà possibile visitare dei posti in Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Siria, Marocco, Kuwait, Yemen, Macedonia, Olanda, Belgio e Francia. L'applicazione è molto utile perché serve per visualizzare in 3D ambienti di studio, per anticipare ad esempio la visione di alcuni luoghi che si andranno a vedere in un viaggio di istruzione ed è molto utile nel momento operatorio della progettazione, ma anche nel momento ristrutturativo di un EAS quando si ripercorre un itinerario che si è affrontato. Una volta che si è scaricata l'applicazione si apre Sites in VR e abbiamo bisogno di utilizzare per l'applicazione un visore, in questo caso io userò Cardboard, ho inserito infatti il mio smartphone nel Cardboard e ho la possibilità di un'esplorazione delle country e delle city per argomenti ad esempio le moschee, le tombe, i palazzi, i musei, i castelli, le torri e così via. Vediamo Tower, esempio, ecco mi da le torri nel diversi luoghi, andiamo a vedere la tour Eiffel e qui ho la possibilità di diverse visualizzazioni, parto da Garden 1 e inizio la mia esplorazione come vedete in 3D del luogo muovendomi con la Cardboard, poi posso sempre col visualizzatore tornare indietro e vedere successive visualizzazioni in 3D. Ecco, mi sembra che questa applicazione possa essere ottima. Arrivederci!